Uh, ma che bello questo stanto, mio Dio! Oh mio Dio, è troppo divertente, che bello, ne sto provando un sacco nuovi Fere? Ma è bellissimo Fere, che succede? Dimmi Fere? Dimmi Cosa stai facendo lì? Eh, non lo vedi, si era guastata la moto, io la sto provando qua perché non andava più bene in retromarcia Ahà Vedi, e quindi sto un attimino testando, vedi? Come può funzionare, perché vedi che non funzionava così bene Io ti ho sentito nominare stanto No Stai sicura? Sì, io so benissimo quello che ho detto, cosa ne dubiti? Secondo me, tu eri in questo posto bellissimo, super adatto all'istante, a fare stante senza di me Ma non è vero, non c'è neanche uno stante, dov'è che lo vedi, scusami? Ti sei appena incastrato dopo che ne hai finito uno, cara Fere, Fere, ce la facciamo Fere, Fere, eccomi Sì Vattene, vattene Eh ragazzi, come va? Io sono Fere Miki E io sono Steph, è che stai giochiamo a GTA 5 E fortunatamente siamo in un altro episodio degli istanti E io qui voglio dare la colpa ai consolini Perché siccome il primo episodio vi è piaciuto talmente tanto Steph mi ha costretto a farne un altro Fere, ma non puoi dargli una colpa se ci fanno fare 90.000 views È una cosa bella, non è negativa No, è colpa dei consolini, sono arrabbiatissima E poi, scusami un attimo, questa mappa le hai scelta tu Non è vero, sono le prove che io abbia scelto le mappe per gli istanti Ci ho registrato di sera e ho le prove che le hai selezionato e tu le hai provate una, due Allora, 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 è molto difficile sta mappa Ok, ok Secondo me non ce la fai neanche tu Guardami Perché è la tutta? Guardami Fere Non riesco a fare neanche il primo, lasciami in pace Ok Ma ce l'ho fatta al primo colpo Non ci provare Dov'è? Dov'è finita? All'inizio Vado, 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 vado Eccoti Ok Ok, no Cioè, roba che se ci avessi voluto provare a fare una cosa del genere non ce l'avrei mai fatta Ah, perfetta Mai, mai nella vita Allora, aspetta che io vado un attimo avanti Bisogna mettere che la mia precisione nel fallire è davvero un qualcosa di epico Non tutti ce l'hanno Allora, ma adesso cosa? Ma che mappa hai scelto? C'era scritto hard moto parkour e io l'ho scelto Ok, ma è troppo Stai mettendo in difficoltà il tuo maestro Esatto Per farti fare una figuraccia e far capire a tutti che in realtà non sei così bravo Cioè, praticamente devi fare una rampa Al contrario Rotteare Girarti Per farti atterrare Esatto Guarda, anche prima di te ce l'ho fatta Cioè, dove sei? Sopra, ti sto aspettando Cioè, sopra la mia testa? Sì Non ci posso credere Non ci credo Non ci credo Ma come hai fatto? Eh, sono riuscita a prenderlo Ahà Ah, non riesci proprio a... Ecco, sì, ho fatto una cosa del genere e sono caduta Però mi ha preso il check Andiamo, Fede Andiamo Stavo già sbattendo sull'ostacolo Allora, ecco, questa cosa non mi piace Ah, sì, vabbè, ma bisogna essere veloci Mi potevi avvisare Eh, quello che ho provato a fare, Fede Uffa Uffa Allora, devo spiegarti un po' No, non è tempismo giusto Praticamente, vedi che sto facendo il fumo? In questo modo parti a massima velocità Appena sei sicura che non c'è l'ostacolo Parti a cannone incredibile E poi voli Esatto E infatti così ce l'ho fatta Vado tutto di fila, vado tutto di fila Non mi devi aspettare Oh mio Dio Parti, vai, 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 vai Ok, bravissima Impenna Oui Yes Allora, vedi quei binari? No, no, non li vedo Io adesso torno a casa Indovina cosa dobbiamo fare? No Passarci in mezzo Provo io, vado? No, vado io Ok, vai Fede Vai Fede Fede dovevi impennare Altrimenti non so Tu non me l'hai detto, mi hai detto Va, io sono andata Guardami Guardami Uh No Ho sbattuto la testa Però ce l'avevo fatta Ma io l'ho preso di testa proprio malissimo Eh, esatto, esatto Perché Devi essere veloce ma non troppo Fede, mi è uscito Vai Andiamo Ma davvero? Sì Allora, mi spieghi come si può fare sta curva Perché io sono un attimino in bilico Aspettati da una mano Oh, grazie Cavolo Andata, andata Non sprecare questo aiuto Perché Non credo che potrò Mai ridartelo Adesso come faccio l'altro Non ho idea Io adesso sono incastrata Dove eri tu No, cioè dai Impossibile Ma Lo vedi Come facciamo? Non lo so Ma che mi ha mai scelto? Io ti dovevo far fare dei test normali Non queste cose strane Allora Sì? Allora, se l'hanno fatta Vuol dire che è possibile Che è fattibile, esatto Siamo solo Scarsi Bra No, ci ho provato Perché se non vai di lato Non riesci a girare Allora Quindi non ridere Che almeno io sto tentando Ti do una spintina Ok Ok Io non ho idea proprio Mi manca proprio il processo da fare per riuscirci Probabilmente anche tu non sei esperto No, allora Delle serpentine Questi non sono nemmeno stante Sono qualcosa di strano Proprio precisi No, niente Niente Allora, teoricamente Se io giro in questo punto così Sì E poi torno un po' in retromarcia Continua a girare Torno un po' in retromarcia Continua a girare Torno in retromarcia Continua a girare Torno in retromarcia Cado Sì, perfetto Ti volevo aiutare Perfetto Stef, mi è venuta un'idea Ok Ascolta, prova a fare un salto oblique E andare direttamente dall'altra parte Capito? Lo vedi qua? Qua dici? Sì Così? Sì Quasi? Funziona Funziona No, perché quella curva è impossibile Secondo me è messa lì per ingannare Vai, 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 vai Dai, fare, prova, prova, prova Ma io? Sì, lenta ed in penna Poco, poco, poco Vai C'ero però Però devi mirare nel punto giusto Lo so, c'ero Mi è contagiato C'ero, c'ero Porca miseria C'ero Fere Mi arrendo Mi arrendo No, non puoi arrenderti Me l'hai fatto a fortuna Non è vero Ho provato tipo 40 volte Non è vero Guardate il timer in basso a destra Consolini Basta e avanza per capire Quanto stiamo soffrendo oggi Ascolta, vai Perché ho paura Che se poi per qualche assurdo motivo Lo azzecco Ti faccio cascare Esatto Quindi vai Io spero di avere la velocità sufficiente Non lo so Ma non saprei neanche come fare questo tutto di fila Vado Ok C'hai fatta Ho preso il checkpoint Ho preso il checkpoint Fere Manchi solo tu Manchi solo tu No 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 Ce la puoi fare No 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 Dimostra di essere un vero stuntman Ma io non sono un vero stuntman Ma io non sono un vero stuntman Stunt girl allora Fere lo sei Fere lo sei L'importante è crederci No basta Rincorsina Lasciami in base Mira bene Impennatina Perché non facciamo video normali come fanno tutti Non lo so Quello me lo chiedo anche io tutte le notti Anche mentre sono in doccia Però Ok Continuiamo a farli Quindi boh ormai li facciamo Piacciono Mi ritiro No no Fere 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 ce la facciamo Fere Fere Eccomi Ce l'abbiamo fatta Ma che ce l'abbiamo fatta Siamo un lavoro di squadra Vai Brava Come si fa Devi impennare molto Preparati L'avevo immaginato Provo Vai Vedi che Quanto molto Tanto molto Vai Proprio al massimo Fere Proprio al massimo No è impossibile Cioè perché poi Capito Sì Si abbassa L'impegnamento Dai No 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 Allora Non capisco come potremmo fare Voglio rimettere bene Se stai dietemente in questa rampa Impegni al massimo Vedi cosa riesco a fare Sì Mi manca quel Qualcosina Non ne posso più di questa gara Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No Stef non cadere Ok Torno un po' indietro Ciao Fere Dai ce la puoi fare Quasi Quasi Ci sei quasi Ma che quasi Fere ci sei Ci sei Bravissima Morta Morta Ok Ho preso il checkpoint Fere ce l'hai fatta da solo Per una volta ce l'ho fatta Per una volta ce l'ho fatta Allora c'è un gradino eh Quindi in penna Cioè In penna adesso Quando finisce questo Vai Nooo Non avevo abbastanza rincorsa Cioè di Che gradino c'è poi Vedi che sono leggermente separati l'uno dall'altro Devi proprio impennare leggermente Perché ci sono alberi? Non l'ho capito Vai vai a esplorare Ma allora Vieni 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 Con calma Allora Ah Era capito Scegliere destra o sinistra A destra c'era l'esplosivo A sinistra c'era la gioia Che simpatici Vabbè si vedeva già che c'era l'esplosivo Sì infatti Non l'hanno ben pensato Il tipo non è molto bravo a fare mappe Dritto dritto Ah Ok Passi l'ecca di qui dentro Mi sono incastrato Come ti sei incastrato? Sì guarda Guarda Mi sono ufficialmente incastrato Allora esattamente cosa dobbiamo fare? Ok prendi rincorsa Sono molto distanti Non sembra ma sono molto distanti Bellino Sì basta andare leggermente veloce Non c'è neanche bisogno di impennare Ok fatto Uoooooo Oh 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 C'è caduta Cosa c'è dopo? Dopo c'è una specie di salita ripidissima Cambiamo gara No è troppo bella Cambiamo gara Cioè Ma devo fare tipo così? Ma no Ma come? No vabbè Capito? Sì Allora Vado? Vai Geronimo Cioè non basta Non capisco Guarda Sì 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 Ce l'ho fatta Fere ma quando l'hai imparata questa tecnica? Non lo so Ho cliccato testi a caso Ha funzionato Ecco cos'è stato Vai Non ce la fai? No Ok Ok Poi prende l'accelerazione Ce la fai Ma la fisica di GTA sta malissimo Vabbè Si deve far ricoverare Oh mio dio Questo è bello Guarda eh Sì Cioè Allora Devi sbattere sulla roba gialla Che ho ovviamente superato Esatto Sì perché non avevo capito bene come farla Poi a te Ritorno indietro Impennatina E sali sul contema Che bello sta mappa che mi hai trovato a fare Guarda È un regalo bellissimo questa mappa È un regalo bellissimo Ti ringrazio Sei davvero davvero gentile Ferre Eh adesso te lo dicevo che non vedevo il continuo Dove Proviamo Ah sì è qua per terra È qua per terra Ah ok ok Limitati a cadere dritta Esatto Oh Ma perché si stava girando da sola la mia? Non lo so Non lo so Fatto Ok 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 Ferre è diventata una gara È diventata una gara Chi vince è lo stanto migliore Non ci provare Vai Ferre C'è il traguardo C'è il traguardo Non l'ho ben capito neanche io No Ecco qua Ecco qua Io lo sapevo Come? Ma come dovremmo? Questa è cattiveria pura È cattiveria pura te lo dico Ma è proprio impossibile no? Cioè dovresti volare su quella piattaforma Fare con Sì è impossibile Dai no basta Cioè credo che stavolta sia davvero impossibile No allora secondo me è fattibile Però Stef va Però Capito? Ferre chiamo un elicottero Allora io adesso guardo Se mi posso arrampicare da qualche altra Esatto E me lo finisco così Perché io non Ah Ferre ma c'è una specie di cheat Cioè? Prendi la rampa tranquilla Si è combinato Annulla con F Annulla con F Ok 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 Basta che prendi la rampa con l'alzata E ce la fai vai Ma davvero? Sì A me non fluttua Vabbè 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 Morite tutti Fa schifo sta gara Ci abbiamo messo a tre Adesso gli metto Gli metto non mi piace Ci abbiamo messo a trenta minuti Gli metto non mi piace Trenta dannatissimi minuti Terribile Non sai fare le gare? Ferre non mettere il dislike solo perché non hai fluttuato Dai da brava No è stata divertente Guarda mi sto scaccolando Wow Wow E' stata la tiro Comunque dai io direi che ci possiamo fermare così per questo video è stato davvero davvero divertente La prima mappa era davvero un po' troppo hardcore Però l'abbiamo finita Quindi Oh lui ha fatto Ferre Scegli delle mappe hard Perché poi ai consolini tanto piace vederci fare le cose difficili E quindi ne ho scelto proprio una ultra hardcore E ho che ti lamenti Me l'hai detto tu Un po' meno hardcore Poco poco meno Non ci stanno vie di mezzo Lo so O sono normali o sono difficilissime Quindi accontentati Esattamente Comunque spero che il video vi sia piaciuto Ferre che ormai ha un sacco di talento per l'istante è diventata davvero fenomenale La prossima volta le insegnerò a volare quegli aeroplani Dato che è totalmente negata No basta E' peggio che quell'istante Quindi ci fermiamo così Stando aggino a like sui commenti E ci vediamo domani Bene ragazzi Se vi riesci così Se ci lasciate un like E questa è la prima volta che vi ho avuto il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao